Bene. Bene? Bene. Aspettiamo che parte la pubblicità. Come al solito. Suoni. No, era Matteo muto. Sento. Vabbè, ovvio, se no non capisci niente. Uno la... Allora, nuovo gioco. Multiplayer. Nuovo gioco. Allora, facciamo predefinito il mondo, sì. Eccoci qua ragazzi, siamo su Twitch. Oggi portiamo Factorio, un gioco nuovissimo, uscito proprio ora a ora. Fresco fresco. Dalla mia libreria. Noi siamo vecchi, giochiamo giochi vecchi. Capito? È giusto. E comunque io l'avevo provato qualche tempo fa dall'account di un mio amico, diciamo così. Sì, tra virgolette. Tra virgolette. Account. E niente, poi mi hanno detto che ha avuto parecchi aggiornamenti e grazie anche a una piccola donazione del signor Alessandro qui presente, che lo ringrazio. Di nulla. E mi ha dato un piccolo aiuto per comprarmi il gioco, che mi fa sempre piacere. E qui ne andiamo con Factorio, un gioco gestionale petrolchimico andante. Quindi se siete naturalisti non potete giocare a questo gioco, dovete odiare la natura. Se siete alieni potete giocare. Dovete odiare la natura. Allora, intanto ci sarà un trapano di sottofondo perché aspettano sempre le 5 puntuali per far casino. Vabbè, ma noi giochiamo. Allora, mettiamola... E dopo 3... C'è il mio fratello. Ok. Salutamelo. Ok. Allora, nuovo gioco. Sì. Te l'aspetta. Crei te la partita. Eh, va bene. Io lo vorrei fare abbastanza cattivello. Cioè, lo vorrei fare che gli alieni ti rompano abbastanza i marroni. Non lo vorrei fare troppo sempliciotto. Beh, devi fare... Beh, sai, il mondo predefinito. Sì. E dopo mettiamo le... Però qui c'è varie predefinite... Ah, predefinito perché c'è pericoloso, c'è maratona. Sì. Se mettiamo pericoloso... Com'è? Se metti il pericoloso cominciano gli alieni dopo poche... Dopo poche ore cominciano già... E non è fattibile? Eh, è un po' difficile perché sia pericoloso sia hai poche risorse, tutto poco... Quindi là faccio predefinito. Fai predefinito, dopo ci aggiungiamo dopo la... Poi... L'espansione dei nemici. Ok, impostazione risorse è tutto normale, media, regolare... Sì, più o meno, sì. Poi impostazioni avanzate? Allora, poi là puoi fare come sull'espansione dei nemici, se vuoi renderlo più difficile. Poi la dimensione... Una dimensione massima del gruppo puoi farla da 25, tipo... No, a me mi arriva al 20, massimo. No, arriva di più. Sposta la... Eh, è il massimo 20. Dimensione massima del gruppo? 20, sì. È dimensione massima di espansione. No, quello 20, no, quello... Ah, ok. Quello di espansione? Espansione lo metti a 10, no, 20. Sennò ti arrivano... Eh, del gruppo... Dimensione massima gruppo arriva a 20, anche tu, però. No, arriva anche a 25. No, no, 20, 20 è il massimo. Solo 20? Sì. Vabbè, allora... Facciamo 10. 10, 20? Eh, se vuoi fare meno, fai 15. Poi, dimensione massima gruppo? Eh, quello... Ah, no, dimensione minima del gruppo, scusa, 20. No, metti meno di 20, sennò arriva... Ok. No, arrivano... Arrivano 20 e quello massimo mettiamo... Minima metti 10, se è a posto. Una decina. 10. Poi, ecco, dimensione massima del gruppo, ragione se... Metti 25 e se è a posto. 30, vai. 30, via. Venga. Tempo minimo... Eh, lascia... Eh, quello metti 5 minuti. Metti 5, perché... 5 minuti. Tempo minimo di espansione 5 minuti. E l'altro lasci 60, perché... Sennò non riesci a gestirli proprio. Vai fuori di testa dopo. Per difficoltà componente, difficoltà tecnologica normale. Sì, quello sì, sennò non ci evolviamo niente e quindi... Ok. E genero? Scriviti il nome della partita, roba. Eh, ma dove lo scrivo che il numero fa scrivere? Ma cosa hai messo partita? Ma sono sull'acqua. Come è possibile? No, ti sei generato la partita tua e basta. Ah. Devi andare. Allora, quando arrivi gioca, fai gioca e dopo multiplayer. Allora, abbandono. Guarda lo scrivo. Gioca. Sì, potevi salvarla, la salvavi e l'hai già posto dopo la riavviavi in multiplayer. Ah, ok, vabbè. Basta uscire. Multiplayer. Sì. E quindi cosa faccio adesso? La stessa cosa di prima. Fai nuovo gioco. Nuovo gioco, personalizzato. Allora, abbandonete 10, 10. Ah, me l'ha salvato. Guarda, 30. Allora, posto, basta. Avvia, avvia. Hai scritto il nome. Scrivi e anche una password. Dopo me la spedisci sul Discord. Mighty Mars. Discrizione. Si muore male. Ciuccia sta ceppa. Giocatori massimi. Metti... 10. 10. Lascia 10, tanto quella adesso non è. Poi, upload massimo, questa non la metto. No, quella non c'entra niente. Password... Dopo me la spedisci. Si. Poi tag niente, intervallo, altro salvataggio. Metti 10 minuti. Si. Si. Che si salva da solo. Si. Ti fa un salvataggio da solo. FK mai. Autokick mai. No. E poi il resto, solo amministratori, salvataggio. Vabbè. Vabbè, giochiamo. Non sono così. Ah, nome utente e password. Anch'io lo devo mettere? Eh, si. Il tuo. Ma se so che l'ho creato, perché non la viene? Perché è quello di Frattoria. Crea account. Cioè, quello che ho creato adesso, lo devo mettere? Si, quello è per il gioco. Non è il tuo multiplayer. Quello è solo per il gioco che ti identifica, che hai comprato il gioco. Ah, ok. Tanto poi lo crea subito, non c'è un problema. Crea un account su Fattoria pure. Ma che palle, ma che palle. Oh, santo Dio. Perché sennò non andrò più online. Poi dopo vorrà la conferma dell'email, no? Paura di sì. Ma forse te lo crea subito lo stesso. Ah, è entrato. Allora, apposta. Possibile terminare l'indirizzo IP esterno. Gli altri giocatori potrebbero essere in grado di connettersi. Bene. Ok. Normale? Aspetta, devo vedere se riesco a... Ti mando... La partita l'ho trovata. Ti mando la password. Cosa ti dice? Che l'indirizzo IP non... Prova. Potreste avere problemi a connettersi. Come non trova l'indirizzo IP? Come non trova l'indirizzo IP? Tommando l'indirizzo IP. Tommando l'indirizzo IP. Ok. 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 Sì, è lo stesso problema Di chi? Di Mirko Eh, quindi? Che non riesce a avviare la partita in multiplayer Ah, e non l'ha risolta No, perché lui Ha un problema di linea Eh, ti dice dell'IP Sì Strano, ma Quindi, ma scusa, se te la vedi la partita sul server Vuol dire che... Se la vedo però non riesco a connettermi Perché il ping è troppo alto Prova a rifarla? Beh, non lo so Se dipende da quello Indirizzo, connessione diretta, l'IP No, no Allora Perché se la creo io va Non so a te come Non so se dipende Dalle impostazioni del modem Che non è... Allora, la creo da te e io intanto Facciamo sì Io intanto proviamo così Ti pare che c'è qualcosa tutte le volte Quindi io vado dopo su partite pubbliche Se devi un attimo E te vai su partite pubbliche Cerchi quella del nome che genero io Ok Poi guarderemo meglio offline O il fare Sì Guarderemo Ok, ok, ok Ok Stai, metto la stessa password così si è a posto Ok, bravo Ok Vai, prova a vederla Come si chiama la partita? Mighty Mars Ecco qua Trovata? Sì È entrato Eccomi Scappiamo Questo è il gioco Noi dobbiamo girottolare così senza fare niente E questo è il gioco E ci prendiamo Cucu Dai quanto è fino a 10? M Sono qui Allora Prima di tutto carbone vero? No Sì ma vicino l'acqua Infatti Dobbiamo farci la base Troviamo un posto vicino l'acqua Allora C'è tante risorse Miste Ecco qui Questa è buona Però io non capisco Siamo qui Qui vicino c'è l'acqua però Qua in basso Sì Eh potevano mettersi qua Oppure al lato di Questo Vicino Sembrava in mappa vicino Vicino Guarda con la minimappa Beh famo la Intanto Eh sì Intanto non c'è problema Abbiamo un po' di risorse Mire espansionistiche Fatti il piccone Ma come io Io voglio subito partire Con la bomba nucleare Siamo ancora All'era del piccone Quindi nel 2000 Che anno 3000 2000 piccone Allora io intanto faccio Il carbonaro qua Bravo Anzi Metti Carbone su questa Che facciamo un po' di ferro Com'è che si gira La macchinetta R Metti la forgia Anche questa Mettila qui Anzi Ma se la metti La forgia su Se la metti Attaccata a lui Carichi la forgia Per cosa Nel senso Puoi mettere la forgia là Io vengo a portarti Le piastre E di questa Guarda l'attacco qua Attacca la tua Attacca la tua Attacca la tua Sì sì È qua È qua È a posto Perfetto Però lui va caricato Quindi bisogna picconare È il primo Almeno il primo In impatto Dopo Facciamo Le 4 Quello a 4 Siamo a posto Prendi un po' di carbone 5-6 pezzi È già notte Siamo arrivati Con la notte Perfetto Vai E questo è il gioco Abbiamo finito Divirtimento Perché è un accesso Anticipato Poi Più avanti Metterà Il resto Dei contenuti Quindi va bene Lui si è già fermato No No Deve ancora Sì perché Devi mettere una cassa Sotto Ok Hai legno Hai legno Sì Mi sembra Qualcosì No Va bene È messa lì Dovrebbe buttare No È dal lato di là Maite Vedi la bocca Dov'è La bocca Non è qui la bocca Questa qua È quella Però te l'hai messa Di qua La cassa Dove viene fuori La fleccia Viene fuori Il carbone No Sul lato sopra Maite Ma se te metti Questa qui Che glielo butta Dentro Il carbone Sì ovvio Ne fa Però No vabbè Lascialo Lascialo lì Lascialo lì Facciamo un po' Di ferro Già di piastra Così Così Siamo a posto Premi alto Per vedere I materiali Che hai dentro Le casse O le fornaci varie Non c'è poi neanche Che esisteva Nella tastiera Eh L'ho appena messo Sulla tua Prima non c'era E però Posso fare Due rotelle No Cerca di fare Un'altra Prenditi i materiali Per fare Tre trivelle Di quelle A carbone Ti devi prendere La pietra E vuole tre Ingranaggi di ferro No Lo sbaglio Sì Una fornace Ah quindi Ho anche la fornace Però vuoi cinque pietre solo Cosa? La fornace La fornace Non prendere Puoi prendere O prendi quella Oppure ne fai una Con le pietre Ti bastano cinque pietre Per fare una pernicio Quella Le pietre Sono qua Dove sono io È piccolo strulino qui Non c'è niente Succecato Dove essere Qua Vai Eccomi Avvicina Con lo scroll Da il mouse Puoi avvicinare Così vedi La grafica Che si deteriora Bello Il quadrettone Il quadrettone Sellato Come di zoom Del 1995 Dele macchine Filograviche Bra Allora Piastre Vai Allora Due rutelline E manco Una rutellina E tre piazze di ferro Ah La rutellina vuole due piazze di ferro Quindi tutte cinque Adesso te le do io No Questa è roba Cosa Aspetta te le do io Te le metto qua un po' Sì Vai Qui lo Allora Facciamo un'altra Rutellina Dopo le devi mettere a quattro Che così si autoalimentano Tutte e quattro E ci danno Il carbone È un po' Automatico Intanto Qui però se la metto qui Devo mettere appiccicata No ma ne devi fare quattro Di questo Eh ma quattro Mi sa che non Non so niente Vediti i materiali Per farne quattro E dopo le piazze Tutte e quattro E le devi mettere così Come un po' Intanto possiamo fare così Allora Non so niente Allora Allora Vado a prendere un po' Di pietra Aiuto Ho una notevole pistolina Con dieci colpi Eh Deci caricatori Sono Antezza Ah Allora Possiamo fare la guerra Otomica Tra di noi Allora un altro Lo posso fare E poi cosa mi manca Un'altra Gli astre sono qui Se ti servono Allora Io faccio intanto Allora Mi prendo un po' Di ferro Anch'io Aspetta che devo bere O mangiare Un po' Di ferro C'è qualcuno Che comunica Insistentemente Dove Forse su Discord Allora La fornace Manca Tre piastre Cosa Tre piastre Ce l'hai? Sì Sono dentro La fornace Prendile Quelle Quindi Quella è sulla fornace Cosa sei a posto Allora Voi Ne fate due Sì Eh però L'ultimo Chi è che l'alimenta L'ultimo Appoggiala Anche quella Ti mostro Come fare E dopo Per prendere La roba dentro Fai con Control Control Il tasto Sinistro Prendi La roba dentro Quando ti serve Il carbone Ma io dico L'ultima Chi è che l'alimenta L'ultima Quale? L'ultima No Si autoalimentano Vedi che È in circolo Si autoalimentano Da solo Ah perché Hai girato l'ultima Sì Ho girato l'ultima Adesso si autoalimentano Bene Così abbiamo Del carbone Fino a che arrivano A 50 Sì Ovvio Fino a 50 Dopo Smettono Di autoalimentarsi Allora Io posso fare Una turbina Ok Gira anche te Intorno Si Sto autoalimentando Con la corsa Sì Allora Vediamo se faccio Due turbine No Non ho ancora Non riesco a fare Devo aspettare Qua Allora Faccio due turbine Così abbiamo Un po' di energia elettrica Ah giusto Ce la fa anche tutta Quella Ambarata Vuoi attaccarti Di qua Dopo il bosco Che c'è il laghetto O sotto Ma Dopo il bosco Pensi sia più vicino Che dici Perché Di là La vedo abbastanza Mi sembra più lontano Allora bisogna fare Una via Per il bosco Cioè Tagliate tutti L'alberi Ma di qua Ci si passa Però Un pochino più su Dove c'è anche quella roccia Tanto Anche se vuoi fare Là Sinodale Se hai tagliato Tutta sta bosca Qui ci si mette Un anno e mezzo Però bisogna importargli Anche il Carbone Perché all'inizio Non abbiamo Pannelli solari Eh lo so E poi si porteranno Coltepiro Coltepiro Possiamo Possiamo Prendere quello Sopra Carbono Che è più vicino Sennò giù Come più Fiuscite Però mi sembra più lontano Giù No giù È più lontano Facciamo qua La centrale E poi Portiamo Il Carbone Lo prendiamo Da qua E grazie Per l'iscrizione Chi è Come si chiama Chi è Ozu Mujuru Sì l'ho letto un po' Perché Me l'ha tenuto Un secondo Me l'ha tenuto Grazie per l'iscrizione Allora Bisogna fare un po' Di piastre di rame Dopo faccio Perché non ho La pompa di immersione Ma cosa serve per Fare la corrente elettrica Ah giusto È vero Che poi bisogna fare Tutti i paletti Anche Sì Allora mi prendono Un po' Di rame Per fare Piastre È vero Sono perso Qualche Giù 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 È vero È vero O Giù Giù Mujuru Dai Quasi Non c'era arrivato O Giù Giù Mujuru Mancava pochissimo Maite Mi sono perso Un po' Di zuzu Allora Faccio un po' Di rame Te puoi prendere Altre cose Ma se faccio Un'altra trivelle La piazzo qua A rame Può essere utile Piazza Allentando Facciamo Sì Piazza Anche La fornace Allora Fatti Una fornace Io sono Addetto Al trivellamento Ti fai La fornace Il trivellamento Femminile Noi Qui rubo Tutto Ti ho detto Le pietre Ti servono Sì Giusto Vabbè Tanto Le piastre E le pietre Non mi serve Mica altro Piastre E pietre Le pietre E poi E la voglia Di costruirlo No vabbè La voglia E prenditi un po' Anche di Qua Di Di carbone Quando ti serve La voglia Schivato 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 Che fai Come il comune Che c'è uno Lavoro E Gli altri 16 persone Guardano Sì Più Allora Sì ma mi dà Una pietra Alla volta No mi manca Una pietra Dammi due Piastre No te Lui già fa Cose complesse No dammi due Piastre Mi servono Due piastre Come faccio D'arte Allora Le selezioni Sono inventarie E butti giù Con Z Una alla volta Sì Sì Tiri fuori Dall'inventario Ovvio Con il mouse No Non è ovvio No Non le hai lasciate Tira fuori Dall'inventario Ecco Perfetto Basta Basta Piastre Me ne bastano due Ecco Posto Vai Ok Allora Abbiamo delle piastre Orfone A giro Ah ne posso far tre Prendile su Con F Con F Ah la faccio Ma noi siamo ricchi Puoi prendile su Con F Qui si piazza La Pompa Offshore Vabbè Qui non facciamo Il cosa ciclico No Cosa Delle quattro Ah qui non puoi Come fai Le cose Le ricarichi Con rame Con rame Però non brucia Niente Fa fatica Vabbè Lo volevo fa su tutto Dov'è Qui che mi Ah no ecco Mi l'hanno già perso Il ruborù Quanto siamo 45 Prendile Intanto Le prendi contro Il sinistro E le prendi da dentro Intanto Va avanti Ah le prendi tutte Intanto Prendi Quelle che ti servono Ti prendi un po' Di carbone Questo tutto Adesso ti serve all'inizio Giusto Questo tutto Ti è Così Non rompi più le balle Ma facciamoci La cassettina No non puoi Devi fare un braccio Ah perché La deve prendere Perché La fornace non ha Non sputa fuori niente Non sputa la fornace Prendilo a mano Intanto Non fare Il braccio L'ho fatto Una piastra di ferro E un ingranaggio Di ferro Allora Il triangolino Prende Quale triangolino Del braccio Il triangolino Prende Il lato No 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 Il contrario Il meno È da dove Prende Il triangolo E la freccia È quello che butta E come si Seleziona R No R vai sopra Con R E la giri Gira ancora Ok Perfetto Allora Mettiamo qua Alimenta la fornace Se no Non fa niente Alimenta la fornace Se no Non fa niente Vai Vai Fatto Il braccio Va da sé Senza alimentazione No Quello va All'alimentazione Buongiorno Buongiorno Ma C'è che respiro Che respiro Praticamente Te l'hai fatto Con Questa è la caldaia Sono quelli Grossi No La caldaia E quella lì Piccolina Questa è la caldaia Piccolina Io il volume E queste sono le turbine E poi fate le turbine Il rapporto È una caldaia Due turbine Ve lo ricordo Sì Sì Ok Però se gli manca L'elettricità Eh no No Finché non Consumi Non segna niente Non produce niente Quindi è come Non fosse elettricità Intanto è fermo No Sento vento Sento un respiro Affannoso Scusate Scusate Raggelante di morte Chi è No È la tosse Che avanza Eh La vecchiaia Vettà Ha superato I I vent'anni Allora io vorrei anche una per la pietra Così smette di raccogliere Sto pietra Che Mi ha già Abbondato Come il bracetto Braccettino corto Volete ferro Stamano può essere ferro o può essere piuma? Stamano può essere ferro e può essere piuma Ecco Oggi è stata yuma Ma adesso Ebbè Allora qui Intanto facciamo le piastre roba Il piastre Questo 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 Poi Impostibile pensavo da avvenne tanto In realtà l'ho usato così tu No Sto sbagliando Ferro è l'unico materiale che va via velocemente Rispetto al rame No Sì rame è tipo Tre ferro e uno di rame Per proposito di questi soggetti Più Oppure anche Sbagliare 20 ferro Chi è questo il server? È sempre mio Ho sbagliato Come faccio? Aiuto C'è anche un problema C'è un mio amico Che C'è anche un mio fattore Però Il problema è che In casa c'è un casino No Se vuole può giocare Però non mi viene sulla chat Che non abbia problema Eh Alessandro Ho sbagliato qui una cosa Mi sono dimenticato di mettere a fornace Come faccio a levar braccio? Togli carbone da questa Togli carbone Metti carbone Togli carbone Non concludi niente Alla fine Sì no Ho sbagliato Però dico Come faccio a levar braccio qua? Eh Tieni premuto il destro Ok Eh no È semplice Basta lo sapermi La partita è pubblica? È sempre pubblica Sì È pubblica Mai ti marzo Ah mai ti marzo Ok Alla partita Aspetta che ti Ti Eccoti qua Perfetto Trovato Aspetta che c'è una Password Te la invio Sì sì Via telematico Via telematico Telepatico Stolineo Aspetta un secondo Ma che c'è la mia staglia Scusa No non è la Password È la Super Password Super Password Eccolo Allora qui siamo a posto Ah ma il braccio non si muove Perché gli manca Manca a lui? Carbone vuole? Io ho messo il carbone Ma no perché hai messo Cosa? No no vabbè facciamo i mattoni Non ti preoccupare Dopo me Correggiamo gli errori che fai Non va bene il mattone? Sì sì va bene Va bene Non ti preoccupare Preferivi la roccia Sbrindellata? No vabbè si può fare di tutto Allora qua siamo a posto Dobbiamo fare ancora tante Perché devo cominciare a fare Questo è il carbonaro Ma intanto vai a prenderti Fai i pali Fatti i pali Con rame e legno Allora vado a spaccare un po' di legno Spaccare il legno Si deve spaccare per forza la mano Per un po' Infanto io odio la foresta Allora qui Intanto siamo a posto di forrente Non lo usiamo Possiamo fare Vediamo che ricerca Facciamo l'automazione Un attimo Possiamo preparare Dopo prendi Bisogna fare un'altra fornace Per ne estrarre più ferro Perché ne facciamo pochissimo Allora la fornace ce l'ho io Quella ve la darò qui Scusate Sì Anche con la trivella Vieni qui Ah faccio il core Sto facendo il core Sì ve ne porto Ne stacchie Ah vabbè abbiamo fatto Le quattro trivelle Quelle che raccolgono Ok Puoi fare Qua un'altra trivella Metti di qua Pablo E facciamo il ferro Eh no ma il Pablo vuole il cavo di rame Aspetta un po' Vabbè ma c'hai Basta te puoi fare Non ti preoccupare Sì vado a prenderla Basta che ti prendi rame e legno Qui c'è una fornace solitaria Ormai Chi Qua c'è una fornace solitaria Lo piazzate io Allora qui Dov'è che mi piazzo per formare? Per mettere qua dove siamo noi La zona più C'è una maffa C'è il ferro Quanti vuoi di pali? Eh fanno intanto Quanto ne riesci a fare? 60 Fanno una trentina intanto Per sicurezza Perché dopo dobbiamo fare Tutto il percorso Allora Mai Infatti sì Trentina Vengo lì da te Vengo lì da te con pali? No Intanto i pali Puoi fare una specie di percorso Come ho fatto io con gli altri Eh vengo lì da te E arrivi fino a Sì più o meno fino a dove sono Ah no Prima andiamo dal Qua cosa c'è E il carbone è quello qui sopra Vieni qui Fai i pali tutti Che arrivano Cos'è sta cosa? Guarda qua il carbone Qua Dovrebbe essere il carbone Ragazzi mi cambia un attimo una cosa Nella cosa del carbone Perché Non ci sia il carbone C'è la zona del carbone Dov'è? No siamo più indietro È di qua È di qua Mighty Qua Prepari un po' di liberato Qua il tuo carbone Nelmeno la prima parte Non sei sicuro che Ah no è qua Sì Qua qua Non c'è fiammino qualcosa Cosa? Non c'è Non c'è fiammino Diciamo un legno È l'unica cosa manuale Eh per adesso Sì perché non fai i droni Ah beh la legna Ma non c'è La serie vera Un centinaio al massimo Tutta la partita Sì no Che altro è di sbruscamento Vabbè Poi è un qualcosa di manuale Vieni giù di qua Mighty Sono dei giochi Che passi la vita Tra gli alberi Asso albero qui che è di cemento Ci ho messo un'ora A piazza giù Infatti l'attrezzo Non ce l'ho già? No dopo si spacca dopo un po' Sempre col piccone Non c'è altro No per adesso Finché noi volviamo Vieni giù di qua Vieni giù di qua No se si può anche ascoltarci Ma se non può parlare Previtivo diciamo Sì anche perché Sino vieni in un bordello Capito? Che non me lo mette questo? Ok Arrivo fino a più o meno All'inizio Sì Vai la E dopo Riesci qua Devi curvare un po' Adesso Ok Qua E le rame Si te vai di là Intanto io prendo il rame Nel mezzo vengo proprio Va più o meno là Sì Entra nel mezzo al coso Così se Costruisci Sì Perfetto Poi mi sposto Guardo dove ci sono quegli altri E adesso là vai nella zona A parte di là Che c'è il ferro Rame Qui non vorrei Non vorrei Tagliare nulla Cosa c'è lì? Cosa? Ah niente niente Perché c'è l'acqua 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 Carbone Carbone non so Non so se arriva meglio di qua O meglio di là Più corto di qua Beh comunque È uguale Stanto che dopo Se scavi il carbone Devi farlo arrivare Agli attimacchiare Se lo devine A scavarlo qua C'è l'acqua Qui vicino E' tanto Si arriva da tutte le parti Vabbè posso anche farlo Non Tanto è uguale Posso anche farlo qui Intanto Sì è più comodo Proprio Indie di Massimo Solo quello Allora possiamo metterlo La trivella Ah non è giusto Sì Così Infatti è che l'ho messo lì Ma le trivelle Non hanno bisogno Eh no Quelle là no Mighty Questa ha bisogno Questa sì Possiamo già Graffitare quelle elettriche Davvero Eh no Sono di base Non ho fatto ricerche Come ho fatto Per riprenderle Com'era? Eh Destro Vieni premuto No mi sta scavando Eh devi cliccare Sull'oggetto però Informazione elettrica Ma io non le voglio Le informazioni elettriche Allora 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 L'ha presa L'ha presa L'ha presa Informazione elettrica No vuoi Allora abbiamo già l'altra pilola Allora Allora me la fa una pasta di pilota Vedi? E' già finito il viaggio Che compiuto No mi faccio anche se c'è la disponibilità Due Piastre di ferro e ingranaggio Solo Dopo sì Allora Allora Ok Te hai preparato la via Allora qua facciamo un po' di Nastri perché adesso bisogna arrivare tutto a mano Allora Allora che babbo, che si sente allora piastra e ingannaccio se devi avere tante piastre di ferro ma allora quante ce ne sono? tre già? quattro mamma mia eh ma ce ne servono ancora tante e non conveniva questo metterlo sul ferro? quale? no no, questa no, bisogna alimentare la caldaia se no non abbiamo corrente elettrica abbiamo un problema certo perché all'inizio è un po' faticoso vabbè anche giusto all'inizio ti tocca fare tutto caricare sempre queste qua a mano poi sarà un casino anche dopo chiuderla cosa? coi muri perché poi dovrebbe diventare una base di peso eh si, bisogna chiudere tutti i muri per fare in vari per un po' diventa massiva la cosa quindi non è si, dopo andiamo ma all'inizio è faticoso più che altro per mettere tutto il carbone che devi fare tutte le linee del carbone per forza eh no ma me lo ricordo eh mi ricorda che all'inizio eh non mi è sembrato così difficile però no no, ma no come difficoltà più che altro come percorsi che devi portare tutto il carbone dappertutto per le fornacce se no non fondi niente e quella è la difficoltà che devi fare tanti percorsi e devi procurarti solo ferro all'inizio la maggior parte è solo ferro si la maggior parte si io prendo eh qua siamo quasi arrivati non troppo poi se fa 54 faccio tutti eh fai ancora percorsi faccio rullo 54 rulli si si, te ne fanno allora qua c'entra una piastra di ferro non posso e dopo quando faremo lo splitter con la ricerca dello splitter qui dal coal lo facciamo scendere e facciamo rifornire rifornire? le fornacce ah le fornacce si si serve il quello con il braccio due po' rosso si se no faccio arrivare la caldaia no? si si vai alla caldaia c'è una roba no no com'è da per girare r r r eh ma è tutto all'inizio che è un po' più complicato dopo devi solo e ho visto comunque pablo che fa come si chiama ogni turbina fa 900 di più di più? eh di kilowatt ogni turbina no no così deve mandare bene no? no c'è scritto sul gioco qua potenza massima 900 kilowatt eh si eh e quando fa 900 dopo ti vende in base alle prestazioni sono basse perché non richiede si 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 ma ma ho io sono studi ho fatto qualche problema in un mondo creativo e ho capito eh ma non così mai ti vedi perché? eh perché non va bene così dopo non riesci più a mettere caldaie non riesci a rifornire le altre caldaie aspetta ma questa qui non la rifornisci da sola no eh si ma non è una caldaie sola bisogna metterne in altre dopo ce ne sono tipo 12 turbine devi fare tipo 6 caldaie ancora ma poi c'avevi il bracetto qua per farlo avevo l'impatto gigantesco nel mondo privato e con quattro turbine e due caldaie mi funzionava tutto si si e ne avevo fatto di roba no dopo si col mondo vecchio o le caldaie in no no con questo aggiornamento anche questo ah non so allora io ho ricerco prima così fai così mighty io le faccio così dopo si ma va bene fai come ti torna male le torrette i muri di pietra l'automazione o la logistica ehm possiamo fare l'automazione così siamo a posto si si adesso questo qua è un braccio elettrico mighty carica si lo butta dentro in automatico lo carica in automatico senza bisogno di adesso preparo un'altra caldaia così quindi adesso bisognerebbe fare tutte le trivelle elettriche e adesso bisogna costruire le trivelle elettriche e così eliminiamo il tutta la roba della corrente eh ma è che ha combustione e ci vuole un po' ovviamente eh insomma appena facciamo la logistica che ti da il braccio dove appena facciamo la logistica no la logistica di TR2 che ti da il braccio lungo scusami ma dovrebbe dartelo l'automazione il braccio lungo no l'automazione ti da il ah si scusi si si ti da dopo quello dopo devi farti in grado ci facciamo andiamo un po' se le posso fare si ne posso fare una di cose di trivelle elettriche ok metti intanto te cambi una di queste qua mighty se no mi prepari già il percorso ok quando queste prepari anche i pali devi mettere mighty eccola qui poi cosa ti facciamo? manciaio? elettronica? eh no torrette fai le torrette già buonissimo posto queste sono le ricerche mighty con T si vedono ah ok può vederle qualsiasi e può avviarle qualsiasi giocatore in partita ah armatura pesante quelle gialle non ce le abbiamo ancora sono quelle che possiamo studiare quelle gialle sono le uniche che possiamo fare ok non sono attive ma possiamo farle attica le rosse sono non si possono fare e sotto quelle verdi sono quelle già torrette tutto elettronica lavorazione all'acciaio sedimentazione cintura portaattrezzi tecnologia meridale logistica logistica però quali le fai le rosse dirgli farei quella c'è difesa laser personale mighty subito subito parte parte subito perchè non mi distrugge sta roccia non mi distrugge la roccia questa è finta ah è finta è scenografica non l'avevo capito ma state già facendo le filette rosse si e con cosa le fate? si fa con una piastra di ferro che si fa con una piastra di ferro si fa con una piastra di ferro se puoi avviare quella può già avviare quella io ne posso fare 11 eh volendo avvia quella l'automazione mighty si ha quasi finito allora l'automazione ah questa ok puoi prepararti come le trivelle per farti quell'automazione la così facciamo già arrivare le in automatico le fiale rosse ah si in automatico è bestia si potrebbe già fare allora mighty ti metti sul ferro aspetta perchè abbiamo i nastri sotto ranni no? neanche vabbè intanto la vi metti devi farti devi farti far si che prendi un pezzo di ferro lo butti in fornace adesso il ferro te lo butti out allora prendi te ti fai i percorsi per far si che crei la pozione rossa per creare la pozione rossa devi avere una piastra di rame e un ingranaggio non ho capito per avere il ingranaggio butto il cosa dentro e si allora per il rame è semplice basta che lo metti in fornace e la fornace va direttamente all'assemblatore invece per il ferro devi avere la fornace e dopo devi andare all'assemblatore però devi fare un altro assemblaggio finale va bene intanto metti i bracci no devi partire non puoi partire ecco ma qui c'è già per esempio qui il ferro c'è già tutto fatto qua mancano i bracci si prendi da quello puoi prendere da quello mancano i bracci poi puoi mettere in fornace eh bravo lo metti in fornace i bracci quali faccio? quelli semplici? quelli elettrici quelli gialli ok posso fare 5 però eh ne fai eh quanti sono? uno due fanne 5 intanto fanne 5 dopo li usi in base a come li fai ecco un pochino langa intanto non la scatti non ho niente di attivo boh casa langa no sarà dipende da me guarda queste per uno rompe le palle cosa? adesso ti devi fare tutto uno che va sull'assemblatrice ok quindi mo il piastro ce l'abbiamo grazie di sboschi 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 ho detto addio perchè non vedevo ok un po' lo so sai perchè li ho staccati di due? perchè ho scoperto che se li vedi tutti staccati poi qui non riusci a dare le energie ah no eh si allora eh quindi per fare le rotelline automatizzate come devo fare? eh devi fare... ti costruisci una macchina assemblatrice e come faccio? l'assemblaggio eh si scusa produzione no assemblaggio assemblaggio si assemblatrice ah beh si non dicevo la categoria scusa perchè io qui me la fa manualmente eh intanto te la fai... ma devi fartela manualmente intanto ma qui non c'è la possibilità di automatizzare la rotellina si dopo eh no ma dopo devi farti l'assemblatrice per automatizzare sennò non assembli molto niente non riesci a fare niente sennò devi assemblare il processo ok prendi la roba che ti serve ci sono un piastro di rame tutto ok stiamo già facendo la roba questo non serve al momento energia non siamo messi benissimo perchè è già quasi la metà quindi adesso faccio un po' di 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 turbine ferro 5 6 7 7 8 10 mi serve ferro piastra ok siamo un po' 1 2 2 2 2 2 2 2 però io l'avrei messo lontano il laboratorio perchè poi va ingrandito parecchio 2 2 2 3 3 3 4 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 6 7 7 7 7 7 5 6 8 8 9 10 10 8 9 8 9 10 10 10 10 9 10 10 10 10 10 100 perchè volevo fare? automatizzarvi le fialette? e sto portando i rame nel laboratorio sto portando i rame nel laboratorio, c'è qualcosa che non tolgo è un po sbagliato, rame diretta nel laboratorio e funziona poco si è sbagliato qualcosa è qualcosa che non causa eh devi aspettare un attimo che arriviamo ai tunnel quelli sotto guarda che per dire sono troppo avanti aspetta un attimo che finiamo queste ricerche ti fai... ok qua è tutto costitizzato anche il ferro ok allora poi ci servono una caldaia ok però le fiale solo rosse servono eh si per adesso facciamo solo quelle rosse posso fare 50 eh se volete faccio tutte? eh fatene un po' si si intanto fai andare un po' quella ricerca così ma per farle tutte insieme senza cliccare 50 volte? per fare? si controllo si controllo o shift sinistro eh è lento a farlo però eh ok si quello che noi ti chiamiamo da parte troppo ok qui abbiamo bracci più lunghi ok sono veloci le verdi quindi se vai a quelle più avanti e non vanno più avanti se le fai manualmente certe non puoi neanche farle ma io mi ricordo che ho fatto una roba da mi sembra 8 8 affari di ricerca questi qua come si chiama? 8 laboratori di ricerca con un tipo 3 nasse che gli giravano intorno eh si sono 3 affiale logistica si vai di logistica si allora avviato corsaro vediamo se è in ok adesso quindi la tua sezione è per la entra anche corsaro si si va bene alleluia necchilo in diretta live c'è il corsaro password please password in discord yeah bene allora qui questo no ho sbagliato ecco perfetto l'armatura del gel la torretta difensiva direi di cominciare a fare qualche torretta che è andrea no io non conosco nessuna andrea andrea è morta è tuo padre è tuo padre è tuo padre nooo che in realtà è tua madre nooo ma che bella il test ragazzi vado a fare un po' di torretta allora eh ti devo guardarvi cosa ci vuoi fare ok siamo arrivati a come introduzione siamo di sirene si di energia a il radar vi serve il radar devi farti anche le munizioni perché vanno il radar vi serve riservi 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 ehm mettine si uno solo il consumo a parte che sta facendo un milione e mezzo di fiale tra un'ora sono pronto ma devi aspettare avvia letto ora figa eh è 50 non fatte ci mette la mia devi aspettare un attimo ok l'armatura me la sono fatta adesso qua siamo come energia ne abbiamo quindi per un po' siamo a posto si per il momento allora cosa c'era da fare facciamo anche l'armatura ok così dopo cominciamo subito a fare i tunnel dal divertimento c'è vai che ha le fatte mettile tutte dentro così fanno le ricerche adesso voi di torretta meno uno vado a mettere là dove c'è la caldaio il boiler ho piazzato una torbina potete lasciarla staccata intanto dopo vediamo lasciarla piazzata là qui c'è una roba verde cos'è? oraneo oraneo ricco ricco? si perché poi c'è anche un po' impoverito che mai ti sono sono impoverito scusate ma che freddura a parte non ho sentito meglio neanche non bannate bannate, bannalo a vita però diciamocelo chiaramente d'inverno non è che sia al massimo d'estate ci può stare perché fa caldo allora ok d'inverno un altro che verrebbe bannato ma di cosa? manditemi la cammina ho capito no niente niente non so fate battute io sono strano su di me io sono strano tutto su di te tu sei strano strano cosa? no niente possiamo allora cosa possiamo fare? la prossima c'è che la fare è quella dei muri quattro piastro di ferro oia che le munizioni vogliono il ferro mamma mia che palle spalle di ferro è tutto un continuo ah si forza dai ok vai tu? no a voi l'erore scusate scusate vai mai ti con i muri ricerca i muri premiti e vai sui muri allora i muri qual è? logistica muri di pietra muri di pietra muri anche un'altra freddura andiamo male bannati da twitch se andiamo avanti così stiamo freddi non freschi c'è un braccio blu adattro di matto abbiamo tolto anche la corretta elettrica bene è sclerato è andato figa è una scheggia il braccio blu è il braccio preferito la mano più veloce del mondo mi sta toccando il braccio blu mi sta toccando contento? si si è contentato un palpatore di ferro che lascia tutto dire allora ma come mai ci sono ci sono questi bracci rossi perché sono i bracci più lunghi così prendono da due blocchi di cina prendono da uno in più e l'altro in più in questo modo si chiamano braccia lunghe si però sono le fermi come dei bigoloni eh no perché è carico perché però ci sono già carichi di ecoe quindi non ce ne ho bisogno più di 5 non caricano questi qui sono degli smanettatori devo starci attenti che fanno il lavoro sporco e infatti sono gli imbrattatori bisogna aspettare adesso che ricerca facciamo? boh io mi sembro cominci a fare anche ausmodizzazione rossa e mi cerco già che sarà quella vera possiamo fare ho il piccone di ferro così facciamo d'acciaio l'acciaio per ora ma si sto per conciugare per i pannelli se no 90 resa 90% bisogna cominciare con le luci per fare i pannelli anche beh l'ottica ok ho un po' di ottica ok io ho messo 32 munizioni allora adesso mai ti puoi fare il tunnel per far arrivare le piastre per fare l'automazione delle rosse come delle rosse devi fare le pozioni rosse che ti ho insegnato prima ah veramente lei non mi insegna ah il tunnel 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 del divertimento dopo fai le due assemblatrici che ti servono per fare la roba però l'ingranaggio è sempre manuale devo farlo no ti ho detto fai le due assemblatrici mi ascolti quando parlo e dove sono le assemblatrici sono le assemblatrici sull'assemblaggio c'è scritto macchina assemblatrice uno si è perso ma che ne assemblatrice uno ecco devi prendere la roba che ti serve per buttare su una assemblatrice fai l'ingranaggio giusto? a te non mi ricordo aspetta un po' ma qui c'è una devi fare la pozione rossa non mi ricordo cosa fa l'assemblatrice assembla i materiali capito dov'è che si faceva per fare ok questo cioè io ho un ordine e lui mi fa quello che voglio io si è quella dell'assemblatrice si li metti fai solo questi se non me lo ricordavo questo fai una assemblatrice ti vieni a prendere il ferro qui dato le piastre che ci sono e fai fare l'ingranaggio ok e poi fai l'altro prendi la piastra allora la faccio vicino alla ricerca l'assemblatrice eh qui qui no lì mighty dai lì mighty non arriverà mai porta la di qua metti l'assemblatrice qui metti un braccino ecco imposti l'assemblatrice che faccio ingranaggi ti metti la corrente no e metti un braccino che prenda il ferro da qui no ma l'ho fatto stretto così lo prende raccino poi ce lo butta cos'è quella roba e così prende la roba ma che no hai sbagliato hai fatto quello combustibile non serve non puoi fare quello questo no aspetta c'è solo quella ah non puoi fare quell'altro si si aspetta guarda fai l'altro quale blu quello no quello giallo intanto fai uno giallo e ne fai uno che butta fuori e fai un'altra assemblatrice ok ferro allora un'altra assemblatrice fai un'altra assemblatrice più avanti che devi arrivare al faccio qua accanto devi arrivare a prendere il rame ah ok cioè la metti sempre nel lato di qua qua più o meno in linea con quella ok e qua si assemblano le pozioni rosse va bene eh devi fare un blocco più là papi no però se ci arriva vabbè no non ci arriva perché non c'è le rotelline ho un blocco più indietro ecco perfetto e non devo alimentare la macchina assemblatrice si ovvio però mi sa che questo è quello che arriva o quello che va che viene che va quale fai Pablo questo è quello che arriva o quello che va quello che arriva quello che va verso il ah le pozioni già fatte si si però questo è il disco vero eccolo allora ci fai un braccino qua Mighty ma a realtà non c'è ancora dire ti stai vicinando ah per bene si ok allora qua bisogna spostare questo è vero è vero c'era assentato me lo ricordavo più che c'era qui si fai un braccio che tira fuori dall'assemblatrice e qua fai due bracci che buttano due braccia che buttano dentro al laboratorio sempre gialli no si 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 davvero dentro se mi sembra si perfetto adesso devi fare arrivare la piastra di rame qua dentro sull'assemblatrice della pozione rossa capito si allora quindi lui fa il coso manca il rame e il rame si prenderà da qua il rame viene fuori da qua te devi arrivare sull'assemblatrice questa quella della pozione rossa si si io qua ne posso devi a uno di questi devi prendere le piastre dirette ah già dire già fatte si allora le piastre già fatte devi un braccietto di questa che me lo porta di qua anche si puoi fare un percorso uno che gira uno che gira di qua se no me ne faccio uno per quanto io faccio un altro pure te ne fai uno per conto tuo se no mi faccio anche un altro un altro tribello mi faccio se di te manca il ferro si tanto servono io qua sto da stappando quella per il tier 2 anzi con e mi devo un po' ricordo le cose per questo no fare un caldo allora facciamo una tribella quale è elettrica si si che poi ce ne è una carbone un po' isolata si è tutta ma quella può servire se serve intanto siamo là sulla zona tanto faccio un po' di luci allora ok questo così si come c'è già ho fatto la direzione dell'impianto in giù Non c'è nessun problema. Maledetto Aldero. Qua siamo al posto. Nessun problema. Mai mesi. Allora... Giacchini... I bracciini Brascini E' già quella viola E' quello si E' quello a filtrante A stantuffo Wcciom, wcciom, wcciom Wcciom Ma lì Allora E' un po' di Cipolle Bello L'automazione Il camore Neoni Fattoria Aeree è avviato di nuovo No E' ancora dentro Ho visto il nome Ho visto anche io Bu Stima sclerata Probabile Spazio Allora Ok Ho messo altre due turbine Perchè ho visto che consumì Andavano le stelle Non c'è spazio Non c'è spazio Vabbaculo Intanto la corrente è qua Ma No No A parte che si era fermato Perchè era Era Eh Così Tacca Ah Thank you Si era fermato tutto Non c'è spazio No Nella cassa c'era Era vuoto Lo stai facendo mighty Eh Perchè volevo fare qui un'altra Tapirula Ma non c'ho spazio Ma dove vuoi farlo? E' qui che andavo qua dentro Ma da qua? Si Che andavo qui alla All'automazione No Devi andare qua comunque Qui sopra Si Però hai capito Però non c'ho spazio Perchè mi serve anche Un altro braccio Ma hai seguito al pozzo Quindi devo spostare tutto Almeno di uno Belle polle Come è possibile? Che non ci sono piastre di rame che arrivano Fortunatamente Non Non consuma niente A riprendere le cose Ho fatto uno di quelli doppi Però non è Però non è Ti manca l'altro Ho fatto quello doppio Pablo ti manca quello Si Vediamo un pochettino Con quelli Qui c'è Qui c'è Qui c'è Un seritorio Ti manca il bracino da fare su quella verde I Pobbile È uh Andato C'ero C'è un coraggio allora quindi siamo altri due braccietti ah scusate avevo il microfono mutato si comunque lì dove c'è il buco ci bisogna cacciarci una blu cosa blu che fa il braccietto e poi anche la cosa verde è pronto eh manca quello blu manca il mio? si al prossimo c'è un'oretta ci siamo non di sperare voi quindi fatti quanto state in streaming che è giusto per sapere quanto ci fate io fino alle sette un paio d'ore ah no dai scusate ok addio e grazie per il pesce nulla grazie a lei prossima volta salmone però metti il tunnel mighty sono fuori dal tunnel sono fuori dal tunnel allora per questo bisogna un po' di eh? che espertone però queste come si ricaricano mighty eh e lo so bisognerebbe fare un'altra ancora e ho capito le ricarico io allora ti arangi tanto ne dovrei fare un'altra con bracci un po' più lunghetti ho capito perchè hanno tutte le braccia corte puoi fare aspetta vediamo se ci arriva ah ma lo sta già facendo il rosso? no ha messo le piastre manualmente come manualmente? ma scusa non c'è già un tunnelino qui che passa le piastre? eh ma lui ha caricato di piastre virame le ha caricate manualmente allora posso levare il tunnel? no dopo è per scaricare altre pozioni e metterle sull'altro laboratorio se non arrivano qua così chiude questo braccio non le prende più se no c'è un inghippo vabbè qui c'è delle piastre inutilizzate comunque eh ma questo devi farlo arrivare qua comunque perchè hai fatto così il tunnel perchè hai fatto così il tunnel? tira indietro di un buco perchè sennò non ci arriva il braccio eh allora questo è a posto e questo qua no adesso devo fare tutte e due cosa? vai io praticamente devo andare al posto di quello che c'è dai devi fare al posto di questo? eh vabbè eh vabbè fai al posto di quello si hai avanti di uno avanti di uno avanti di uno però se io devio questa qui del carbone ci passa in che senso? se devio questa qui del carbone ci passa a cosa vuoi far passare? per alimentare queste due ah no c'è questa l'alimenta eh una si la e questa qua è il problema questa qua è il problema quella che non viene alimentata beh se metto un braccio qua nel mezzo qui dove sono io e la prendi da questa la prendi da questa carica quella e questa vabbè puoi fare anche così devi mettere o un braccio lungo rosso o devi spostare la fornaccia no ma tu non vedi? che testa che testa che testa di ti hanno imparato da piccolo che testa di eh? sei stato imparato da piccolo no allora dove esce questo qua non viene alimentato quindi perché c'è un groviglio di fili che è spaventoso non funziona cosa? perché non prende non c'è campo sì sì è di metà ah perché è a 44 eh no perché sono troppe piastre dentro quindi non può adesso vediamo subito se prende o no no non le prende perché non toglie il carbone ah no? no no fai così aspetta vedi le mede non funzionano fai così farlo passare da qua perché quello la toglie solo le piastre il prodotto finito ah ho capito toglie il prodotto finito e basta ecco 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 perfetto ma questa la piglia l'acqua che ti dicevo io? che non ci credevi? perfetto grazie ah qui la produzione del il ferro è una grande scarsa no vabbè nelle ore mi rimetto a fare le torrette che non ne abbiamo una sola ah e tu fai torrette intanto devi anche farti le munizioni comunque sì fai munizioni e torrette quante ne faccio torrette? fai un cerchio oppure no ma che cerchio è bello che ho? eh devi proteggere le caldaie sicuramente io le caldaie le ho già messa però sai ce la vedete dove faccio fai ne altre 3-4 intanto per un po' proteggerlo le metto per chi altro le caldaie anche perchè noi siamo praticamente disarmati eh perchè devi mettere anche un po' di produzione di proiettili io le metto uno al nord una a sud vediamo magari qua ci sono i boschi fatti proteggere dal bosco il tuo nome conosco una a due se c'è acqua i mostri non vanno in acqua qui c'è comunque a sud c'è il bosco il bosco vedi di coprire le zone aperte dopo vedi con M riesci a capire dove sono le torrette comunque alè ma una cosa ho fatto un piccolo nastro che porta la il carbone ad un altro braccio per alimentare la fornace automaticamente quando ho esaurito la cosa dovrebbe riempirlo giusto? la fornace di carbone vieni a vedere un po' dove sei? qua o no? si quando è esaurito quando va sotto i 5 riempie meglio così se è oltre i 5 non riempie niente sta fermo vabbè e ne fai un'altra di queste con solo mattoni che i mattoni vanno dentro la cassa capito? no ma c'è già qui la no questa fa muri automaticamente vedi? come fa muri? vedi qua che questa fornace fa il mattone dopo lo butta nell'assemblatrice fa muri e basta una pietra? si fa il mattone di pietra dentro e dopo nell'assemblatrice fa direttamente il muro fai muri te devi fare una che faccia solo solo in fornace e basta senza assemblarli ah insomma poche parole i mattoni di pietra e basta i mattoni di pietra e basta fai una così anche prendi da qua sempre da questo qua te lo metto doppio così ce l'avevo prima avevo tentato di metterlo ma non ci sono riuscito ecco ma è perchè devi togliere quello prima perchè se no non te lo va vabbè posso sempre farne una aspetta un momento mica ma tutte ste caldaie servono per e non è adesso non servono tanto dopo servono no perchè dico se saranno tutte queste adesso dopo che e dopo cominciano i problemi e poi l'automazione 2 è finito eh mamma mia munizioni ferro cosa? munizioni ferro? quanto ferro ti va via no io quasi quasi fare un'altra un altro nastro di cosa? di bella elettrica ufff ma di cosa produce? eh pietra per fare la un'altra cosa del genere va bene vai vai lo sbagliato l'ho preso tutto cos'è? carburante se carbone cosa facciamo di potenziamenti? ehm che cos'è che è possibile? proiettili e danno dei proiettili velocità dei proiettili oppure velocità delle cartucce danno delle cartucce oppure l'acciaio ma le elettrorette vanno solo con proiettili per il momento facciamo danno o velocità facciamo è possibile fare armatura? no al momento cioè quella leggera non ho pozioni verdi devi farti quella base intanto ma se facciamo l'energia solare no eh non conviene? ti ho detto che non ho le pozioni verdi automatiche ma non ci sono quelle che facciamo rosse? no ma no l'armatura pesante non si può allora fai le cose perchè serve l'acciaio devo fare l'acciaio per l'armatura pesante fai quella delle munizioni munizioni? danni o velocità? io farei danno che così magari ne sbrega meno con la velocità ok magari ne sbrega di più qua siamo a posto adesso ho raddoppiato così se serve ce n'è tanto ma la trivella qui c'è quella qui c'è quella vicino alla all'impianto delle turbine questa qui si può utilizzando un nastro prendere il carbone e tramite un braccio farla rifornirla come prima insomma una cosa simile a prima soltanto che la trivella si può fare? si poi cambi la trivella ti metti il palo elettrico e fai arrivare il nastro fai arrivare il carbone ma si potrebbe anche fare con la trivella come con la trivella? la stessa cosa che rifornire la trivella del carbone solo che inquina questa allora la tolgo lo scopo è fare meno casini infatti quella elettrica la metti attaccata qua che fa piastre di rame in automatico quella sicuramente meno inquiniamo meglio quelli stronzi attaccano meno più inquiniamo più attaccano vai mai ti inquinano mi fumo una scicca che si inquina allora possiamo fare qua facciamo un'altra lucina la piazzata qua ok poi i bra... le braccia qua potranno fare vediamo cosa potremmo fare fatti il pompa Mike mi dice utile? fa più danno il mitragliatore ma si però devi andarci vicino meno vicino più ravvicinato ma io spero che le torrette che sto facendo no quelle sparano di più facci il migliore dovere devi caricarle ma faccio anche il muro? più che altro per fare il muro dopo non puoi chiuderlo adesso perché ci servono i cancelli dopo per passare ci servono i cancelli ed è un... vi siete fatte l'armatura base almeno si per sicurezza perché sto senza munizioni quindi allora qui siamo al posto adesso dovremmo cominciare qua l'automazione l'altra il braccio questo 4 questa così facciamo con l'automazione assemblatrice blu qua dobbiamo fare il braccino il braccino corto questo manca qualcosa questo 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 e che pareva questo qua mi manca il rame che arriva di qua il rame che arriva di qua e il rame che arriva di qua non lo faccio vedere io un po' di torrette l'ho messa bravo su M vedi come le hai messe premi M e schiaccia le torrette il raggio d'azione della torretta eh e vedi come le hai messe abbastanza buono lato Nord te lo vedi se lo fai? si si vedo anch'io dove sono le torrette e c'è un buco sotto di noi se lo metti anche sotto dove finiti tutti sulla parte qua siamo scoperti si perché non l'ho ancora messa ma di qua ci dovrebbe essere la boscaglia o meno per tempo ci arrivo cioè dovrebbe fare tutto il giro ma ci vorrebbe una tonnellata mi ha fatto tutto il giro follia follia possiamo fare arrivare qua mi prendo queste follia braccio braccino nastri un po' di nastri anche perché di qua c'è la boscaglia ci difende acidità allora ho uno e due facciamo ancora un paio facciamo il sud sud il sud il torretta lo chiamavano torretta lo chiamavano il torretta un po' si vabbè non possono nemmeno l'unico buchino l'unico buchino aperto che vuoi dire tu c'era la mia cosa intelligente no? e invece? vabbè che sono abbastanza pessimistico nel gioco come nella vita però però in questo gioco sono io pensiamo a VR Billions oddio anche qua ci sono l'unico invasione che rompono il mondo molto poi se ho le risorse faccio anche tutto il tempo giro 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 tombo e faccio la produzione dei proiettili automatico così e preparala già dopo i form no giusto faccio una cosa? si me ne faccio una personalizzata vai no se no poi dopo uno dice se non c'ero io io adesso le trovate tropezze trovo io l'alieno gli alieni gli alieni gli alieni sono tragici ma c'è li 15 si gli alieni ehihihi ehihihi ma chi ci fa la forest c'è la foresta ma chi ha il maiale? è il maiale du furest du fureste vuoi cigarelli un po' di munizio siamo arrivati alle pozioni perditi di ukulele un po' di un po' di caldo un po' di caldo e questo è un altro bacetto e un agli alberi questi se metto i nastri dritti posso farlo se no li metto rovescio non fa tanta strada manchino manchino vediamo è partito tutto che cazzo è una piastra anche la piastra e pozioni verdi automatizzate l'assemblatore blu cosa fa? c'è differenza? quattro oggetti fino a quattro quattro cose può assemblare insieme qua fino a quattro ingredienti quindi i bracetti mi ne pare un milione che bracetto o scherzetto? bracetto e scherzetto dovrebbe funzionare e manca il carbone ma che palle sto carbone eh il carbone non ti ascolta il carbone sempre il problema si mette il ripetitore e divide no? no a regola il? no ripartitore il ripetitore la doppia come? non lo piglio cosa non piglio? non me lo fai fare in che senso? come si vuoi? si dai su ma che palle la allora qui c'è la e ok come mai non parte? cosa? l'ho rincoglionito cosa? il nostro funziona quel bigolo la si sta facendo un culo d'acciaio non ti ascolto allora ho sbagliato io metterci il hai sbagliato hai sbagliato hai sbagliato hai sbagliato un po' allora vediamo un po' giusto giusto è giusto è giusto è giusto e non vuole andare questo orecchione qua eh? un po' di morte e qua c'è il poverino che ormai si è fatto il culo e qui adesso scatena l'era del mondo e mi incazzo come una biscia ma no ma non le metti su ma perchè? qua sta andando a palla io lascio cosa? quello lì lascio guardo io eh dagli un'occhietta tu veloce perchè sembrato di aver fatto le cose si come si deve con questo che è successo c'è rotto il ciesso dove sei? dove sei? no men 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 dove' il problema? il problema sussiste aiuto mi stai mi stai importunando ma qui manca carbone eh se non arriva il carbone direbbe hm manca un bracciettino allora FT com'è che si fa? mi dimentico sempre come si fa a prendere la roba nastro F sul no vabbè io comunque se riuscito a fare munizioni sono soddisfatto nella vita nella vita bisogna essere romaiti ma prendendone prendendone uno si ne prende veramente uno oppure uno è uno uno è uno uno vale uno chi è che è entrato? il decco chi mai poteva entrare? un maldiviano giusto decco ormai sono maldiviano ormai si è fatto una nazionalità maldiviano perché maldiviano tromba di più si si fa inculare l'ano bravo proprio proprio lette proprio leggero vai non si intuisce bene quello che vuoi dire sei sempre sul sul dritto sul leggero proprio proprio quelle sfumature sono proprio quelle sfumature di nero capito? sfumature di proof allora vediamo un po' ne sanno bernardo 83 ha iniziato la ricerca e la polazione schwaio questo qui è posto e questo qui ma io posso fare un po' di illuminazione sennò divento scerco si già hanno iniziato a rugare attento già vedo i signorini là in fondo che fanno cucci ma non ci preoccupare che ci sono 3.000 no guarda che non si ha il grigio ah in questi si in questi in più alle prove venire un momento a vedere questi vabbè il nastro qua è una cosa però dove sei? qua non capisco come mai non funzioni eppure i pallici il nastro è sbagliato ma com'è che deve essere? eri contro andava controcorrente il nastro ho messo il nastro sbagliato no hai messo il nastro contrario alla direzione degli altri ah era il nastro era girato facciamo finta di niente va tutto bene non ti preoccupare i bracci erano sì corretto era tutto corretto a parte l'ultimo nastro va tutto bene fa il contrario ha fatto il nastro beagle insomma va tutto bene non ti preoccupare non è successo niente non è successo niente flop e te siamo tutti amici siamo tutti amici tra virgolette siamo tutti amici vediamo un po' se nelle vicinanze c'è un po' di pietra pietra manco pagare la pietra cosa sta mettendo? sta mettendo dei paletti tra me e loro tra dei paletti che non funzionano ne avete poca elettricità no ce ne sono stato no non fu uno ha detto che no non funziona che paletti dimmi? della luce come non funzionano? non funzionano perché non hanno niente da consumare no perché qui non avevo a collegare bene ma ecco vedi non funzionano perché non ho collegato la corrente tra di loro ecco l'altri bei signorini finiti ecco proprio proprio vicino te ne mancava solo uno? ah no ce ne hai cosa? ah li stai cantando che io vedi io devo fare tutto tutti i lavori insignificanti pulire spazzare e loro vanno tutto il grosso esagerato bene pulisci fai legno abbatti tutti gli alberi vedi tutti i lavori spazzare tutte queste cose facciamo fare i lavori lavorosi oh l'armatura è pesante possiamo farla ma però prima hai fatto i proiettili veloci giusto? si si no quelli quelli più danno qui c'è il del greggio che non è il suo greggio eh però adesso non sti carabili non è lento non ci serve al momento cosa stai facendo? cosa? chi? no ma è ti ho bisogno di più munizioni più munizioni ma hai fatto l'automazione delle macchine eh? si ma ne fa pochi e gli fa una strage guarda io faccio un milione di capiro l'anno e faccio tutto il giro della base beh aspetta il treno devo fare il giro col treno il treno col brum brum si può fare ma potremmo essere già morti quando rivelo il treno ah no ma adesso mettiamo l'armatura di corsaro quella pesante l'armatura mia proprio si chiama armatura di corsaro si armatura di corsaro armatura armatura peto esplosiva poi c'è la descrizione quella pesante quella pesante è la descrizione prendi me mi metti su e sono ancora più pesante ultra pesante ma Ale con il con il rame e il ferro o vacca no puoi far tutto su sto gioco con il rame e il ferro fai tutto sul gioco no ma facendo eh no cazzo proprio vicino si non andarli a stuzzicare come l'altra volta dopo un uomo ecco poi si poi vieni in base mentre ti inseguono no perché e il furbone aiuto e si muore tutti mi stavano seguendo volevano da bere è pericoloso bisogna complottare contro di lui è una tira mostri anche nella partita di di Mirko sono andato alla alla Rambo però qualcuno sono morto però qualcuno l'ho accoppato col fucile a pompa ma vedi qui è pieno non le fa più le piastre dove? la fabbrica la fabbrica delle piastre è la cedri è normale è normale no ma no ma però c'è in questo momento questa non arriva roba però ma devo finire qui ti detraiamo dalla paga però debbo finire sei top volento Mike lei non ha fede no 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 ma c'è una mia amica che si non ha fedez fede fede ma la mia sua amica si chiama fede fedez ma è la buona abbastanza le medie si no vabbè le medie si è andato per i ricordi in proponta l'anno scorso si no 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 non mi piace periodi bruttissimi ecco bravo siamo in due periodi di merda meglio evitare siamo in due ho fatto meglio i superiori ma qui questo avveno qui di questo qui non è farò credo dai Mike io intanto ti assedio il castello bravo che sono quasi tutti morti cos'era quel botta al microfono che è andato deve essere stato il signor De Cree perché ha il vizietto lui no no io no no allora c'è rimasto solo Gorsano Gorsano ha distrutto il microfono che non ho non ho il microfono allora basta tutti morti eh no puoi fare anche qui fai ho la produzione automatica di torrette se vuoi corsare come l'altra volta produzione di torrette torrette difensive si può fare anche la produzione però devi pigliarti il rame da qua capito? ho capito vabbè guarda e il carbone puoi prenderlo da qua perché tanto ce ne ha tanto la produzione di torrette in automatico così mighty se ne prende no vedi che delle volte sei una persona anche intelligente così mighty non fa più fatica a farcele da solo ma perché altri stai facendo le munizioni e che sono entrato in lombra della guerra e mi ha tradito uno ero io era quello di mighty e ti infiltrati da quel maledetto e fa descino dimmi cosa allora per fare le torrette serve una piastra di ferro una 10 vabbè fai un percorso che fa piastre di ferro un percorso che fa rame piastre di rame e un percorso che fa ancora piastre di ferro però dopo va dentro l'assemblatrice e fa ingranaggi di ferro e dopo unisci tutti i tre i percorsi su una sola quella blu assemblatrice blu si è spaventato no ho visto spiegate in maniera più semplice possibile ho capito vabbè ci vuole un'assemblatrice e tre due assemblatrice una grigia e una se prima avevi le rette uscite allora non ho staccato niente che è successo non mi dire ho visto che sei dell'ennel per caso se non avete pagato una bolletta non so se terminarlo di nuovo o ucciderlo ma chi questo qua dipende bravo è abbastanza forte decidilo si merita di morire solo per il fatto di averti tradito vabbè che essi e voilà poverino povero orco vedi è arrivato l'osservatore il controllore tutto a posto ma chi è che ha messo questa che manca le munizioni e voilà io diviso a metà l'ho scordato può essere va bene allora l'assemblatore no l'ho piazzata io ah ok e una l'hai lasciata vuota dove il massimo tre questa sopra l'ho piazzata io ce n'era una vuota qui sopra non mi sembrava no forse mi siamo più eh 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 vabbè c'è a posto poi due uno due tre di qua va bene io munizioni ci sono due che lo fanno penso vada bene basta fanno il doppio bene l'assemblatore di qua vini e uno di là conto della pesante la piastra d'acciaio e come si fa le stracce no devi fondere il ferro la piastra fondi la piastra su un'altra fornace no non toccare sto percorso intanto te ne fai uno per conto tuo perché dove è la piastra state già facendo no devi farla di qua se no vieni di qua ma qui sopra dove c'è col sole puoi farlo su questo ferro qui ti fai qua ti devi farti le piastre di ferro ma voi le stai già facendo no 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 puoi farle fai le piastre d'acciaio le metti le metti tutte qua ah lui ci fu aspetta ho fatto quello a carbone no no vai 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 un due tre da qui cosa so quella cosa lì bianca luci? luci luci sempre accese anche di giorno sempre accese anche di giorno così ti possiamo multare un pochino di più prudenza mai troppa prudenza mai mai nel dubbio accelera qua siamo arrivati nel dubbio vai a piedi due e tre quando siamo arrivati qua? telefono casa 9,18,27,26 allora abbiamo più di per fare le barre da accioio serve la piastra di ferro ok quindi facciamo un monte di fornace che non posso fare perché mi manca la pietra mannaggia in generale abbiamo più che sufficienza anche inquinamento non abbiamo più che sufficienza no capito beh basta metti la mappa e lo vedi subito abbiamo dei mostriciattoli anche sotto mostriciattoli quelli rossi ma la pietra normale non ce l'abbiamo? se no aspetta aspetta che guardo qua mi sa di no mi sa di no mi sa aspetta 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 un po' che si no ho sbagliato volevo ancora f puoi prenderla no ma puoi prenderla intanto te l'ho tolto perchè la prendessi ah prendine un po' con la f f quanto eh ma no non puoi f vai sopra la pietra eh solo con la f non sei sopra quella la che esce si qua sopra sei spostato si sono questo ecco stai la sopra la parte sopra devo stare si f premi f ecco vedi ah se non sta sopra quei piedi non la prende no non la prende si va si va quanta me ne da basta no perfetto te ne serve ancora ne faccio una che butta fuori eh magari pietraiolo dipendente ne so gli altri mi defini sniffo io ti chiedo non so sei un pietrone un pietranone allora faccio la cassa già attaccata così è tutto dentro ok questo è fatto ci serve pietro c'è tutto ci serve pietro ci serve pietro mancano un po' di nastri no ci penso ci penso faccio io faccio grazie eh braccino milione fra dieci minuti io devo andare si va bene che ne suona dai va bene ok che ore suona le sette e cinque perché non lo metti qua nel mezzo che era il suo poi di qua facciamo assemblaggio finale giudo ti manca il carbone da prendere si ma è tutto studiato già è tutto nella mia nella mia capoccia dove il ripartitore è la soluzione a tutti i problemi del mondo ti serve anche un braccino ti serve anche un braccino faccio un'altra di carbone ti aspettavi eh che lo stai aspettando dico non te l'aspettavi no no si ok due o quattro al solito chi non ha testa ha gambe cinque da lavori ok poi ci servono i bracci lunghi per posizionare le piascole d'acqua ormai sta uccidendo tutti gli archi perché l'hanno tutti tradito ci è rimasto male non se l'aspettava non se l'aspettava ci arriva quintali di carbone e voilà dovrebbe funzionare e invece allora lo metto al palo eh vedi troppo attaccato ma l'ho detto eh ma lo devo fare attaccato per forza sennò come li prende ma farle un po' più staccate le fornaci due attaccate e una staccata devi farla sennò non ce la fai a far stare i pali devi staccarne una più in là da una parte o dall'altra perché sennò non ci arrivano i pali ma perché io voglio metterla quell'altro qui che lui prende eh poi ma devi mettere un altro palo sì sì vai ho ucciso uno di livello 65 bravo invece di farlo uno leggendaio invece di farlo un amico no era troppo potente dovevo umiliarlo no invece l'ho ucciso è arrivato uno di livello 61 mi ha fatto un'imboscata ti ha ucciso no forse perché eri imboscato te ah sì era già imboscato lui eh los imboscatos noi lo facciamo così ce ne vanno meno però però ci vanno è l'abilità hai capito sei riuscito corsaro adesso lo scopriremo manca la fornace corsaro ops più di una fornace ti manca è vero perché sennò non puoi mettere il faro grezzo direttamente hai ragione non puoi far niente col faro grezzo mi ha rovinato tutti i piani no mi ha rovinato tutti i piani oh guarda si è fermato un nastro maic eh mi ha fermato un nastro si allora allora è fatto buone ne avete quanto volete e anche di più il rame il ferro che cazzo che è il ferrozzo va via che è una roba assurda se volete io vi lascio la partita perché io stacco adesso vi lascio attivo il computer fate quello che vi faccio vi ho salvato andate avanti dopo se mai vi staccate dopo io mi stacco va bene dai ok va bene adesso ti ringrazio prego prego thank you thank you alla prossima prossima ciao ciao ok allora quindi ci vuole però quest'altra fornace non la possiamo fare giusto ma no ancora no ora vediamo se se possiamo fare la fornace quella per fare il perché vuole vediamo un po' come si chiama non me lo dice minchia praticamente per fare la piastra d'acciaio vuole la seconda fornace finisce da capire dove è che si sviluppa le fornace delle plastiche no lavorazione petrolio no combustibili no elettricità no lavorazione petrolio no dove sarà motore no al momento lavorazione avanzata dei materiali sarà questa allora allora per fare qui sono le armi trattamento liquidi non è sarà questo allora c'è bisogno del nastro di piastro di ferro ingranaggi allora che cos'è che ma stai facendo tempo che manca tu si si ce lo sto pensando io dai mighty ti attacco il tuo insediamento quello del primo ma lo puoi scegliere chi attaccare si 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 se fosse casuale no no eh ma arriva che livello 760 io si sono al massimo bravo mighty mark eccolo qua posso scegliere lo stesso coso è ma se si livello 140 vai adesso devo scegliere il my level ne sono tre si perché non ha potenziato la mia armata è solo a livello 130 devo scegliere un altro chi scelgo mettine tre scusa io ne ho li ho messi tutti eh oh bravo facile allora questo qua livello 48 livello 42 no quanto mi ha sparato non ho detto che è un senso poi abbiamo i besti da sidincendari abbiamo i cacciatori di rinforzo e io lo ho gai io sceglierei anche un bel graughe da guerra basta non c'è più soldi si è povero questo però lo cambiamo è comunque sempre 135 contro un 140 va bene è molto urgente terrorizzato dai anni scritto dagli attacchi di distanza va bene tanto io concludo qua dai tanto ci resti te cozzaro no no io stacco lascio stare va bene via anzi finisco di imbastire almeno una parte ma te se io stacco rimane online non ha tante di Alessandro si si infatti rimane online salva la partita no che non è il mio giusto vai si attacca va bene ragazzi la prossima domani sempre su twitch alle 5 domani che è venerdì o sabato 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 si sabato sempre su twitch alle 5 e poi dopo verrà postato la live anche su youtube tra qualche giorno vedremo un po' quando e quindi alla prossima ragazzi ciao ciao alla prossima